Ancora un sacrificio di vite umane sulle strade della città. A causa di un incidente avvenuto ieri sera in Via Lorina hanno perso la vita due coniugi siracusani. L'incidente è avvenuto all'altezza dell'incrocio di Contrada Cozzovilla. La dinamica del sinistro è al vaglio dei vigili urbani. Sono coinvolti un monovolume di colore bianco il cui condicente è stato trasportato all'ospedale per accertamenti e una moto su cui viaggiava la coppia marito e moglie Armando Tropea e Maria Pia Reale, poco più che sessantenni, quali con l'urto sono stati sbalzati alla sella rovinando sull'asfalto per loro. Non c'è stato nulla da fare. La procura ha aperto un'inchiesta per accertare le cause dell'incidente mortale, il quarto nell'ultimo periodo in città. Grazie a tutti.